Buon pomeriggio a tutti e grazie per aver avuto la pazienza e la cortesia di partecipare a questo secondo seminario del nostro ciclo di incontri dedicati alle figure di soluzione della controversia alternativa alla giurisdizione, in particolare poi come da titolo le forme che potremmo definire atipiche di mediazione o conciliazione nel diritto amministrativo. Ringrazio ovviamente anche il Presidente Calderoni e la Professoressa del Signore per aver accettato l'invito ad essere presenti oggi pomeriggio a Trento, il Presidente Calderoni è Presidente del Tar Brescia e ha stimolato qualche mese fa l'approfondimento di questi temi anche alla luce di interessanti prassi che in qualche modo sono state sperimentate dal giudice amministrativo, poi cercheremo di capire con quale successo e soprattutto con quale persistenza. La Professoressa del Signore che ha all'attivo diverse pubblicazioni in materia di giustizia amministrativa, diritto amministrativo dell'economia e diritto amministrativo sostanziale è stata invece invitata perché da qualche anno anche con una serie molto articolata di pubblicazioni tra cui anche una monografia sull'arbitrato si occupa della problematica della giustizia alternativa, giustizia alternativa che non è soltanto la giustizia dell'amministrazione patrimoniale, cioè dell'amministrazione che dispone variamente del proprio patrimonio con atti negoziali ma che è anche, e questo è il vero fronte problematico, una giustizia dell'azione amministrativa espressiva di quella che chiamiamo la funzione, di quella che si può chiamare il potere nel senso ampio del termine perché poi è anche vero che questo è il punto più delicato della applicabilità delle figure alternative al diritto amministrativo. Per quanto riguarda il pomeriggio di oggi io parlerò per primo ma mi limiterò a una spero abbastanza rapida e schematica introduzione dell'argomento lasciando poi ai due relatori l'approfondimento degli aspetti anche di dettaglio e di sviluppo del problema. Ho intitolato il mio intervento introduttivo al rapporto fra tradizione e modernità nelle ADR e questo perché certamente di ADR si parla diffusamente anche nel diritto amministrativo da ormai un ventennio e a uno sguardo superficiale si potrebbe ritenere che l'argomento sia inedito, nuovo, sia un po' la nuova frontiera della giustizia amministrativa ma come in realtà ognuno di noi sa e ricorda anche dai suoi studi universitari assumendo che la storia del diritto amministrativo sia più lunga della storia dell'Italia Unita o dello Stato nazionale è anche vero che la storia della giustizia amministrativa è per larghissima parte una storia di una giustizia o comunque di una soluzione delle controversie che non passa e non è mai tradizionalmente passata per la giurisdizione perché in realtà la giurisdizione amministrativa è una conquista relativamente recente della storia del diritto amministrativo europeo nel senso che è una conquista che risale nei suoi tratti diciamo più strutturati a non prima della metà del XIX secolo poi con tutti gli aggiustamenti del caso ed è senz'altro vero che poi la conquista della giurisdizione amministrativa intesa come giurisdizione amministrativa piena ed effettiva secondo alcuni è una conquista che non è ancora maturata del tutto ed è in ogni caso una acquisizione recente anche da parte di chi ha una visione più ottimistica del fenomeno da questo punto di vista quindi parlare di ADR vuol dire riflettere su qualcosa di contemporaneo ma al contempo di un problema che è profondamente radicato nella stessa natura se vogliamo della giustizia amministrativa o del diritto amministrativo la parte contemporanea del problema e qui quindi vengo subito a parlare di cose a noi più vicine è come si vede alle mie spalle da inquadrare a mio parere nel dibattito o comunque nella retorica forse da certi punti di vista del rapporto fra effettività ed efficienza delle tutele o della tutela nei confronti dell'amministrazione laddove per effettività intendiamo il principio che è attualmente ribadito dall'articolo 1 del codice del processo amministrativo ma che in qualche modo ha le sue scendenze costituzionali negli articoli 24 e 111 della nostra Costituzione e in ogni caso di un principio che è ribadito da almeno due fonti di rango sovranazionale come l'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'articolo 47 della Carta di Nizza oltre a essere riconosciuto anche in altri testi costituzionali come per esempio la Costituzione spagnola ma senza poi divagare su questo aspetto l'idea di effettività della tutela oggi che cosa implica? implica una tutela piena, ampia nei confronti dell'amministrazione è una tutela che deve essere erogata in prima battuta senz'altro dal giudice ma in via surrogatoria potrebbe essere garantita anche dall'amministrazione sia nell'ambito del procedimento sia all'interno di alcune procedure remediali previste dall'ordinamento interno o comunque anche da altri ordinamenti in Europa e nell'Unione Europea per esempio è abbastanza frequente vedere come alcune importanti decisioni amministrative segnatamente quelle delle agenzie europee siano devolute a strumenti diciamo così pre-giudiziali e para-giurisdizionali che si iscrivono pienamente nell'idea di una tutela effettiva garantita però dai corpi amministrativi specializzati e non dai giudici accanto al polo dell'effettività della tutela e quindi della necessità di assicurare a più ampio raggio possibile la protezione delle prerogative individuali verso l'amministrazione sta la tematica molto discursa dell'efficienza della tutela che può essere declinata in tanti termini sia come efficienza del processo che come efficienza della pubblica amministrazione qui come vedete il problema non attiene tanto alla profondità del sindacato del giudice o alla profondità dei controlli amministrativi o alle garanzie nei confronti del cittadino ma tiene al costo del servizio giustizia e al costo dei rimedi comunque garantiti dall'ordinamento e perché questo? perché in realtà soprattutto nel contesto europeo ma non solo va ormai maturando in maniera sempre più decisa l'idea che anche la giustizia oltre che una funzione fondamentale sia da declinare in certi termini come un servizio reso all'utente utente che nel caso del processo amministrativo non è solo il cittadino ma se vogliamo anche l'amministrazione ma se questa è la prospettiva di analisi ed è una prospettiva che da più parti sta emergendo è chiaro che si ragiona di giustizia come costo si deve cominciare ad introdurre il problema della riduzione dei costi di funzionamento della giustizia miglioramento della efficienza bruttissimo termine della performatività o dell'efficacia dell'accezione dei magistrati o comunque anche delle strutture amministrative di supporto e da qui evidentemente nascono tutti i problemi relativi anche alla valutazione della produttività dei magistrati di cui poi si sente parlare anche nelle cronache ovviamente dal nostro punto di vista ragionare di ADR in rapporto all'efficienza delle tutele che cosa vuol dire? vuol dire predisporre degli strumenti alternativi al processo e quindi alternativi in particolare al processo amministrativo che siano sostanzialmente preordinati a ridurre i costi di funzionamento del sistema giustizia favorendo quindi una composizione stragiudiziale amichevole, informale delle controversie senza ovviamente sovraccaricare di questi compiti le strutture pubbliche quando anche nella forma della giustizia come vedete qui non voglio dilungarmi troppo io mi chiedo se però effettività ed efficienza siano concetti giuridici, valori o aspirazioni allora consentitemi di essere abbastanza rapido non sono concetti giuridici perché non sono per nulla univoci sono spesse volte dei concetti tautologici perché la tutela è per sua natura effettiva altrimenti non è tutela poi possiamo chiederci storicamente quale sia il grado di effettività della tutela che è maturata nel corso dei secoli però ogni tutela ambisce ad essere effettiva o generici perché ragionare di effettività della tutela vuol dire tutto e non vuol dire niente poi ovviamente dobbiamo andare a spulciare le varie disposizioni dei codici di procedura le varie sentenze dei giudici le varie prassi interpretative e quindi da questo punto di vista non credo che l'effettività della tutela sia un concetto non credo nemmeno che lo sia quello di efficienza delle tutele perché? Perché il concetto è un concetto già discorso in economia prendete per buono quanto vi dico ed è un concetto abbastanza oscuro nel senso che efficienza vuol dire riduzione dei costi a che prezzo quali costi con quali impatti per cui in realtà anche il concetto di efficienza è un concetto molto discutibile sono valori? sì, da un certo punto di vista sono valori come tutto è valorizzabile ed è imputabile a valore il punto credo sia quello di definire efficienza ed effettività della tutela come delle aspirazioni ossia come dei termini che in qualche modo vengono invocati per giustificare i più svariati interventi di riforma interventi di riforma che genericamente vanno sempre nella direzione di semplificare di ridimensionare il peso dell'azione amministrativa del processo ma che di per sé si prestano ovviamente le più disparate valutazioni come ogni tipo di riforma del resto come vedete poi nella mia prima slide cerco di approfondire e di sviluppare il rapporto che sussiste fra ADR nel senso proprio e l'aspirazione dell'efficienza e l'aspirazione dell'effettività ci sono diverse argomentazioni in letteratura giuridica anche dall'esame della prassi se vogliamo della cosiddetta letteratura grigia che è quella predisposta dalle organizzazioni che si occupano di valutare questi fenomeni anche da un punto di vista quantitativo dicevo ci sono diverse ragioni per ritenere che le ADR favoriscano l'efficienza della tutela nei confronti dell'amministrazione e queste ragioni come vedete sono quelle che già vi anticipavo che sono postulate soprattutto dalla letteratura anglo-americana ragioni che vedono nelle ADR delle procedure snelle informali rapide private nel senso ovviamente retorico che si attribuisce a questo aggettivo ossia caratterizzate dalla deformalizzazione dalla capacità di negoziare di contrattare di confrontarsi senza diciamo così essere vittima e ostaggi dei gangli delle procedure è chiaro che questa è una prospettiva efficientistica che poco considera la dimensione giuridica del fenomeno la dimensione giuridica della procedura vista a sua volta come un costo però il dato lo dobbiamo tenere presente da un punto di vista culturale perché la logica alla base dell'ADR è proprio una logica di questo genere una logica in cui il privato fondamentalmente deve prevalere sul pubblico e deve prevalere sul pubblico anche nelle vesti di processo cioè il processo o meglio lo strumento di soluzione della controversia privato prevale su quello che è il processo come manifestazione molto importante e essenziale del potere pubblico ma accanto a questa retorica se vogliamo che poi non è del tutto accettata nemmeno negli Stati Uniti figura anche un'altra retorica alla base della diffusione culturale o dei tentativi di diffusione culturale dell'ADR che è la retorica della pacificazione o della legittimazione sociale qui vi cito alcuni autori c'è anche il Trentino Cappelletti che però queste cose le ha studiate negli Stati Uniti e quindi nell'ambito di quel tipo di cultura vi è la base di queste teorie l'assunto per cui la giustizia privata sia una giustizia mite una giustizia che si basa appunto sul confronto sul libero scambio di opinioni sul libero scambio di posizioni e che in quanto tale rifugga diciamo così dalla dimensione autoritativa tipica del potere giurisdizionale e quindi tipica della volontà del terzo che cala diciamo non curante delle conseguenze a dirimere la controversia ovviamente con la forza della sentenza e con la forza del giudicato quindi anche qui ovviamente questo argomento non è privo di implicazioni economicistiche si preferisce attribuire alle ADR una funzione di pacificazione di legittimazione soprattutto laddove le ADR favoriscono scelte e soluzioni delle controversie orientate al compromesso in cui di fatto entrambe le parti guadagnano qualcosa rispetto alle posizioni di partenza e quindi migliorano la loro situazione sostanziale evitando il rischio di una soccombenza totale o comunque molto significativa che può essere poi disposta da un giudice tra l'altro con un atto non più discutibile ovviamente se non nei limiti in cui è ancora impugnabile prima di passare in giudicato quindi dal punto di vista dell'efficienza tutte le argomentazioni dal punto di vista dell'efficienza della pacificazione sociale tutte le argomentazioni invalse soprattutto negli Stati Uniti sono argomentazioni favorevoli alla diffusione delle ADR in ogni campo del diritto e anche nel campo del diritto amministrativo tra parentesi statunitense che ha delle caratteristiche un po' diverse dal nostro ma non poi così lontane se andiamo a vedere la disciplina sostanziale del potere pubblico ma su questo torneremo quando invece noi affrontiamo il problema dell'ADR dal punto di vista della effettività della tutela quindi dell'aspirazione dell'effettività della tutela diciamo che vi sono argomentazioni a favore della diffusione dello strumento come anche potenziali argomentazioni contrarie alla diffusione dello strumento allora calando il discorso nel diritto amministrativo e per di più direi in una prospettiva più vicina all'ordinamento italiano vi può essere una buona ragione per diffondere anche in Italia le ADR e la buona ragione è che una giustizia amministrata direttamente dai privati è una giustizia che si potrebbe spingere in maniera più netta verso la cognizione dei fatti e la cognizione di valutazioni tecniche rispetto alle quali non tutti i giudici amministrativi ma molti giudici amministrativi tendono ancora ad arretrare il proprio sindacato allora chiunque abbia pratica dei tribunali amministrativi italiani salvo eccezioni ovviamente salvo casi particolari sa che non è facile mettiamo così ridiscutere determinate circostanze di fatto ridiscutere determinati profili tecnico-valutativi dell'amministrazione davanti al giudice perché esiste da sempre pur con varie sfumature una una sorta di deference si dice comunque di autolimitazione del giudice nel proprio sindacato secondo alcuni prendendo atto di quel problema e di quell'atteggiamento ricorrendo a strumenti di mediazione di composizione stragiudiziale della controversia con varie strutture ovviamente con vari moduli organizzativi si potrebbe in qualche modo integrare la tutela ottenendo ciò che il giudice normalmente non dà ovviamente sul presupposto che vi sia la capacità delle parti di accordarsi e di venersi incontro quali sono gli elementi a sfavore delle ADR dal punto di vista dell'effettività della tutela guardate che questi sono come intuibili argomenti pesantissimi e probabilmente ancora oggi decisivi non solo in Italia allora un primo problema è quello della simmetria delle parti che cosa intendo beh intendo che il privato resta privato e l'amministrazione resta amministrazione in realtà il giudice amministrativo è stato istituito per livellare un po' i rapporti o comunque se non è stato istituito per quello questo è uno degli effetti positivi della giurisdizione amministrativa nell'ambito degli ultimi 150 anni beh è chiaro che se noi usciamo dal circuito processuale e confrontiamo o mettiamo a confronto direttamente amministrazione e privati possiamo incorrere nella generale ipotesi in cui l'amministrazione sia il soggetto forte del rapporto e quindi non accetti né di mediare né di conciliare né di transigere ma possiamo incorrere anche nel più sottaciuto ma non meno importante caso in cui sia il privato il vero soggetto forte soprattutto nei confronti di certi enti locali quindi immaginate la grossa impresa che ha una controversia con un piccolo ente locale e quindi potremmo arrivare al paradosso per cui questa giustizia privata è una giustizia che penalizza l'amministrazione e favorisce determinati soggetti privati cioè coloro che possono permettersi certe negoziazioni con certi esperti con certi consulenti e quant'altro nel diritto amministrativo credo che il caveat del rischio delle ineguaglianze fra le parti debba essere sempre avvertito e quindi questo caveat è quello che ci impone di guardare sempre con prudenza alle forme di giustizia negoziata salvo poi le eccezioni e le peculiarità di alcuni casi altro aspetto importantissimo ma questo è implicito ma è bene esplicitarlo è il ruolo del terzo la controversia di diritto civile commerciale di diritto privato è una controversia di norma caratterizzata da una rilevanza patrimoniale caratterizzata da dispute attorno all'attribuzione alla distribuzione di beni o di risorse scarse fra due o più parti che comunque sono coagulate attorno a quella controversia d'accordo? e così non è per le controversie di diritto amministrativo perché? perché l'interesse di cui è portatrice l'amministrazione quando non sia un soggetto che opera con strumenti puramente patrimoniali di diritto comune è un interesse per definizione esuberante rispetto a quello del centro di imputazione quindi è un interesse della collettività è un interesse che può coinvolgere terzi e non solo è un interesse che può indirettamente toccare anche interessi di terzi privati variamente beneficiari di determinati effetti dell'azione amministrativa la figura del controinteressato che è tipica in ogni processo quasi ha una matrice sostanziale che non possiamo trascurare quando ragioniamo di negoziazione di giustizia negoziata ma allora qui c'è un grosso problema del terzo che viene escluso da queste ipotetiche trattative o da questi tavoli di confronto a volte il terzo è individuabile altre volte no le ADR non sono da questo punto di vista uno strumento così elastico per tutelare il terzo anzi espongono il terzo a pregiudizi ma espongono a pregiudizi la stessa stabilità dell'accordo che in ipotesi deriva dall'attività di mediazione conciliazione o transazione terzo punto credo che non abbia nemmeno bisogno di particolari spiegazioni il ruolo della legalità e della giustiziabilità allora se la funzione amministrativa in realtà in tutte le sue manifestazioni anche quelle privatistiche è regolata nel suo farsi da norme imperative ossia da norme poste nell'interesse pubblico è anche vero che è molto difficile non impossibile ma è molto difficile dal punto di vista teorico e applicativo giustificare una deroga al rispetto di quelle regole nell'ambito di una giustizia negoziata d'accordo? da dove la giustizia negoziata potrebbe avere l'effetto paradossale di lasciare in vita provvedimenti non solo illegittimi ma anche contestati e contestabili da parte del destinatario qui viene ovviamente in gioco il rischio che il ricorso alle ADR come ogni forma in realtà di privatizzazione dell'agire pubblico implica uno svuotamento del principio di legalità e una fuga dell'amministrazione delle garanzie tipiche dello Stato di diritto e questo evidentemente è un problema persistente e vi dirò insolubile non del tutto risolto esaurita la cornice del fenomeno e passando a qualche dato concreto ovviamente quanto detto in questa slide non è frutto di elucubrazioni attorno a una fumisteria come le ADR in realtà le ADR esistono ed esistono nel diritto amministrativo esistono da diversi anni il fatto che esistano e che siano ammesse e che si suggerisca il loro sviluppo non vuol dire peraltro che esse siano effettivamente utilizzate perché i dati quantitativi in materia e anche qualitativi sono abbastanza discursi e discutibili ma ne parleremo più avanti quello che però mi interessa porre in rilievo è come in diversi ordinamenti da alcuni decenni si sia in qualche modo ragionato di ADR qui vi cito due esempi molto importanti sono l'esempio degli Stati Uniti a cui già facevo riferimento prima non c'è solo letteratura sui ADR negli Stati Uniti non ci sono anche non ci sono soltanto strumenti giustiziali affidati alla stessa amministrazione ma esiste una legislazione positiva che dal 90 poi con successive riforme ha espressamente disciplinato in termini generali il ricorso a questi strumenti da parte delle amministrazioni con riguardo in particolare a tecniche di mediazione conciliazione facilitazione e quant'altro che poi di volta in volta vengono implementate nell'ambito delle singole amministrazioni per cui oltreoceano e da diversi decenni si è sostanzialmente ritenuto che gli argomenti a favore delle ADR prevalgano su quelli contrari salvo ovviamente ma questo è pacifico la possibilità di rivolgersi poi ai giudici per la soluzione della controversia nel senso che salvo magari eccezioni le ADR non sono mai integralmente sostitutive della tutela giurisdizionale ma nessuno sensatamente lo potrebbe affermare sono sempre comunque uno strumento alternativo legacy integrativo può colpire se il caso degli Stati Uniti è sempre eccentrico rispetto al nostro modo di pensare e quindi per la sua eccentricità può quasi sembrarci scontato che negli Stati Uniti si ammetta una cosa che in Italia o nell'Europa continentale facciamo fatica a concepire credo che i tentativi quantomeno effettuati in Francia e da chi? dal Consiglio di Stato peraltro fin dagli anni 90 di diffondere e di ragionare attorno alle DR siano emblematici qui c'è il riferimento a un rapporto del 1993 in cui il Consiglio di Stato francese ha avviato in Francia il dibattito attorno all'opportunità e alla praticabilità della diffusione di questi strumenti anche in un sistema in cui la centralità del giudice amministratore e amministrativo è fuori discussione in cui è fuori discussione il fatto che il giudice abbia una cognizione piuttosto piena dei fatti o dei presupposti delle decisioni quindi in un sistema in cui a meno dall'esterno la giustizia amministrativa funziona o è comunque assai funzionale il fatto che si sia cominciato a riflettere di ADR fin dei primi anni 90 ci deve suonare come un campanello d'attenzione circa la prevalenza anche nel continente di ragioni a favore e non contro la diffusione di questi strumenti sulla base di quale presupposto logico sulla base del presupposto logico che la diffusione dello strumento alternativo non deve mai implicare una dimediazione delle tutele e quindi una preclusione del ricorso al giudice ragionando in concreto oggi parliamo più di mediazione di conciliazione uno degli effetti principali di questo rapporto in Francia è stato quello della crescente diffusione di ricorsi amministrativi preliminari obbligatori da parte dei privati che quindi prima di rivolgersi al Consiglio di Stato devono passare per un filtro processuale davanti alla stessa amministrazione dotato di determinate garantie e tenete conto che si è ritenuto in Francia che queste misure siano perfettamente compatibili non solo con esigenze di diffrazione del contenzioso efficienza ma soprattutto con i principi di effettività delle tutele proprio perché la natura preliminare obbligatoria di questi rimedi non preclude in ogni caso la successiva possibilità di rivolgersi al giudice soluzione questa del tutto divergente rispetto a quella praticata dalla Corte Costituzionale italiana che in più occasioni invece ha ritenuto illegittime costituzionalmente le forme di ricorso obbligatorio e preventivo rispetto alla giurisdizione in quanto lesive del diritto di effettività e pienezza della tutela che deve lasciare libero sostanzialmente il privato di rivolgersi immediatamente in prima battuta al giudice ma questa è una divagazione che rispetto a quello di cui dobbiamo discutere oggi possiamo in qualche modo lasciare in un secondo piano quello che invece è molto importante anche per il proseguimento di questo mio intervento è quanto stabilito dal Consiglio d'Europa in una raccomandazione del 2001 il Consiglio d'Europa è evidentemente un'organizzazione internazionale le sue raccomandazioni non hanno alcuna efficacia cogente nel nostro sistema come in altri sistemi però visto che insieme al Consiglio d'Europa che si è elaborata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e visto che questo è un organismo che ha particolarmente a cuore la tutela effettiva dei diritti e degli interessi è singolare che il Consiglio d'Europa evidentemente si sia occupato di questo argomento o meglio è chiaro come nella prospettiva del Consiglio d'Europa la diffusione delle ADR sia vista con favore e non sia necessariamente in contrasto con i principi stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e con i principi stabiliti in particolare dal suo articolo 6 che cosa contiene la raccomandazione del Consiglio d'Europa contiene degli inviti a diffondere da parte dei legislatori statali evidentemente gli strumenti di cui stiamo discutendo anche alle controversie amministrative quindi anche alle controversie di diritto amministrativo una raccomandazione che si può facilmente recuperare in internet che di per sé ripeto non ha alcuna efficacia né precettiva né la pretesa di normare il fenomeno però una raccomandazione che qualche indicazione la dà nei suoi considerando e anche nelle sue previsioni io qui ho citato tre considerando che vedete in fila che sono il 6, 7 e l'8 perché li ho citati e perché li lascio direttamente alla vostra lettura perché se voi collegate questi considerando alla cornice del fenomeno scoprirete che nella raccomandazione del Consiglio d'Europa fondamentalmente vengono riprodotte e compendiate quasi a mo' di piccolo manuale le argomentazioni che negli Stati Uniti militano a favore della diffusione dell'ADR i contra sono stati ridimensionati ma poi vedremo in che termini in realtà mentre viene esaltato già nel preambolo quindi nella parte introduttiva della nostra raccomandazione l'insieme dei benefici che le ADR possono determinare anche negli ordinamenti dell'Europa e dell'Europa continentale in particolare come vedete considerando 6 si afferma una cosa che magari ai ai fautori della giustizia amministrativa potrebbe aver fatto gelare il sangue cioè che le procedure davanti alle corte non sono necessariamente degli strumenti più appropriati per risolvere le controverse di diritto amministrativo è un considerando però lo dico ovviamente consapevole di essere di fronte a un pubblico amico insomma è anche un po' una pietra tombale verso la giustizia amministrativa da un certo punto di vista dal punto di vista di Silvio Spaventa probabilmente sì anche se poi possiamo sì sto forse un po' forzando però è significativo io non l'avrei messa se avessi ma infatti non lavoro al Consiglio d'Europa non così generalizzato però in certi casi è vero poi considerando 7 come vedete c'è tutto direi anche la retorica sottolineata poi dalla frasetta closer to the public della funzione legittimante e pacificatoria di questi strumenti e considerando numero 8 c'è tutto un elenco dei vantaggi derivanti dalla diffusione dell'ADR che in realtà è un compendio di potremmo anche dire di luoghi comuni ma che hanno avuto un riconoscimento più o meno ufficiale quindi maggior semplicità maggiore flessibilità velocità minori costi tutto da dimostrare composizione amichevole insomma sull'amichevole potremmo discutere soluzione affidata ad esperti dei singoli settori pur nel rispetto di principi equitativi e quant'altro maggiore discrezionalità addirittura del decisore qual è il modello europeo di ADR sotteso alla raccomandazione del Consiglio d'Europa non a quei considerando ma alla raccomandazione letta nel suo complesso qui ho sintetizzato sei punti su cui credo si possa basare poi anche la successiva riflessione ma senz'altro il Consiglio d'Europa ha avuto diciamo così la pretesa o il suggerimento di tipizzare i rimedi molti dei rimedi che sono stati tipizzati lo vedete alle mie spalle non sono ignoti alla nostra tradizione perché i ricorsi preliminari sarebbero grossomodo i nostri ricorsi amministrativi sotteso da riformare profondamente la transazione pur con tutti insieme del caso non è uno strumento del tutto ignoto alla prassi l'arbitrato anche qui abbiamo Monica che ne sa più di tutti gli strumenti relativamente nuovi per il 2001 erano la conciliazione e la mediazione guardate bene io non ho ancora dato definizioni ma perché non ne ho trovate e quindi temo di espormi definendo bene la conciliazione e la mediazione e non lo farò sono una nebulosa è chiaro che nella mediazione si suppone la presenza di un terzo mediatore che nella conciliazione magari può mancare ma con tutti i dubbi del caso e non solo aggiungo che questo è un problema che mi sono sempre posto va bene la conciliazione va bene la mediazione ma l'esito della mediazione che cos'è un accordo transattivo e quindi una transazione lo lascio ovviamente come interrogativo sospeso ma solo per farvi capire come queste raccomandazioni in realtà queste raccomandazioni in particolare siano sì incisive da certi punti di vista ma anche molto generiche e necessariamente generiche da altri la raccomandazione ovviamente e questo è una importante concessione ai principi come è ovvio che sia dello Stato di diritto la raccomandazione impone più che raccomandare un'espressa regolamentazione della materia o da parte di corpi normativi unici o da parte delle singole leggi di settore quindi nel modello europeo ma in realtà anche statunitense nessuno si è mai sognato di diffondere le ADR nei rapporti amministrativi sottrendo le ADR a un principio chiamiamolo così di legalità e di tipicità ADR sì ma a determinate condizioni stabilite dal legislatore attenzione non solo una tipizzazione delle ADR non solo una sorta di riserva di legge in materia di ADR ma anche la necessità di procedimentalizzare le ADR il che dal punto di vista di chi si occupa di diritto amministrativo ci sta già aprendo un sacco di finestre di campanelli e di arcobaleni perché perché in realtà qui si sta dicendo sì ADR va bene ma in realtà sono dei procedimenti di secondo grado con caratteristiche particolari e con una marcata apertura alla partecipazione del privato come parte necessaria e fondamentale essenziale del procedimento ma in realtà sono sempre procedimenti in qualche modo riconducibili a una funzione terza rispetto alla legislazione e alla giurisdizione quella funzione non può che essere la funzione amministrativa e quindi qui tutto sommato si può stupire soltanto chi non conosca nemmeno vagamente il diritto amministrativo qual è la disciplina di questi procedimenti è una disciplina che assicuri ovviamente l'imparzialità del decisore terzo la trasparenza della procedura il rispetto dei diritti delle parti non lo dice ma è sotteso nella trasparenza una qualche onere di motivare determinate scelte che si assumono nell'ambito della procedura il rispetto dei tempi della procedura e quant'altro quindi ovviamente i principi generali della funzione in un modo o nell'altro si applicano anche questo tipo di controversie scusate di strumenti di soluzione delle controversie il che ha implicito il rischio di ingessarle e di renderle magari poco efficienti ma qui si tratta di bilanciare i valori o meglio le aspirazioni in gioco e torno quindi a quanto vi dicevo prima effettività ed efficienza non sono concetti e non sono valori se non in senso sono molto lato sono aspirazioni ma le aspirazioni poi devono misurarsi con l'esperienza pratica e concreta ultimo punto che vedete lì segnalato che è scontato ma non poi così troppo è che se si normano se si disciplinano le ADR bisogna in ogni caso trovare degli strumenti o comunque dei modi per garantire l'effettività e l'eseguibilità delle decisioni assunte il problema che nel diritto amministrativo conosciamo tutti è che non può essere eluso nel momento in cui si scelgono potenziali vie stragiudiziali di soluzione della controversia nell'interesse di entrambe le parti ma nell'interesse ovviamente anche dei terzi quali sono i rapporti con la tutela giurisdizionale che emergono dal modello europeo anche qui non dico cose particolarmente nuove primo aspetto è che le ADR possono essere aperte prima dell'instaurazione del processo nel caso del processo amministrativo di legittimità ovviamente va posto in rapporto con i termini relativamente brevi per impugnare o anche questo è interessante durante il processo il che evidentemente chiama anche il giudice a saper governare il fenomeno e questo nella raccomandazione emerge si suggerisce di collegare al positivo esperimento o comunque all'intentativo meglio di esperire un ADR sufficientemente serio e fondato anche l'interruzione di termini di decadenza rispetto all'impugnazione degli atti o qualora ovviamente le ADR vengano disposte durante la pendenza del processo la sospensione del processo stesso ovviamente le ADR come vedete nell'ultimo punto non possono mai escludere la tutela giurisdizionale ma su questo credo che vi sia non solo concordia ma che sia logicamente e positivamente impossibile sostituire integralmente alla tutela giurisdizionale delle ADR perché le carte costituzionali ma gli stessi articoli 6 e 47 della convenzione europea dei diritti dell'uomo della carta di inizio di fatto lo vieterebbero venendo più in dettaglio a conciliazione e mediazione che sono temi che abbiamo cominciato a introdurre oggi qual è il modello europeo quindi il modello sotteso alla raccomandazione del consiglio d'europa che emerge come vedete anche qui non solo non si definisce il fenomeno ma si lascia ampia libertà agli stati di normarlo o venervisino l'opportunità prescrivendo che conciliazione e mediazione possano nascere o sulla base di accordi fra le parti accordi leciti e quindi in qualche modo richiamati dalla legge o disposte addirittura dal giudice nell'ambito del processo o previste come strumenti obbligatori preliminari o quant'altro si sottolinea ma questa è probabilmente una tautologia che nella conciliazione e nella mediazione si deve favorire un confronto immediato fra le parti mi viene in mente si deve favorire una sorta di oralità e di concentrazione nel senso classico della giustizia ancorché privata e questo è un aspetto molto importante però che qui ho lasciato un po' sfumato in conclusione ma è un vero cuore problematico del tema si afferma che conciliatori e mediatori possono invitare l'amministrazione a riformare o ritirare un provvedimento sia per motivi di legittimità che di opportunità allora in tutti i sistemi conosciuti noi sappiamo che a porre nel nulla un atto amministrativo è abilitata la stessa amministrazione o è abilitato il giudice sulla base di presupposti che possono variare comunque abbiamo da una parte il macro fenomeno dell'autotutela del riesame o di certi tipi di controlli gerarchici e dall'altro il fenomeno della giurisdizione poi è chiaro che all'interno della giurisdizione abbiamo la giurisdizione del giudice ordinario in Italia con la disapplicazione o simili però o giudice o amministrazione questa postilla invece che si evince dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa introduce un fenomeno inedito e abbastanza interessante perché sostanzialmente si assegna a un soggetto terzo in ipotesi privato un potere direi di cognizione preliminare della legittimità e o opportunità di un provvedimento e quindi dell'esercizio di un potere amministrativo e addirittura si attribuisce o meglio si ritiene potenzialmente attribuibile a questo soggetto addirittura una sorta di potere che possiamo anche definire morbido soft di suggerire il ritiro di atti ma è chiaro che il ritiro degli atti illegittimi o inopportuni se suggerito è suggerito perché è elemento essenziale dell'accordo lato senso transattivo allora se nell'accordo transattivo noi avessimo una sorta di assetto di interessi per cui l'amministrazione stessa riconoscere spontaneamente l'inopportunità parziale o totale di un provvedimento o la sua illegittimità nulla questio perché di fatto nell'accordo transattivo finirebbe per essere inserito anche un potere di riesame più o meno negoziato però è diverso affidare a un terzo la diciamo facoltà di suggerire di fatto in termini quasi vincolanti l'adozione di quel tipo di provvedimenti se il terzo è un'altra amministrazione coinvolta nell'ambito di chiamiamoli così arbitraggi amministrati il sistema regge ma se il terzo è un mediatore è un conciliatore privato diciamo che la cosa incuriosisce quantomeno perché incuriosisce perché in un report della CEPEI che è una commissione europea istituita sempre nell'ambito del Consiglio d'Europa che si occupa di efficienza della giustizia misurando e valutando vari indici quantitativi delle modalità attraverso cui si svolge la giurisdizione dei vari stati in un rapporto del 2007 dicevo si conclude in maniera lapidaria quanto da me indicato cioè che in realtà la raccomandazione del 2001 al 2007 era rimasta non solo disattesa dai singoli stati ma poi ho dovuto tagliare disattesa per scetticismo dei pochi stati che la conoscevano e ignorata dalla larga parte dei funzionari intervistati perché cosa aveva fatto la CEPEI aveva mandato in tutta Europa c'erano già le mail un questionario l'Italia di solito non risponde a questi questionari infatti sto lavorando una cosa che coinvolge i dati della CEPEI e mi devo andare a recuperare i dati sulla giustizia amministrativa e anche ordinaria nella letteratura grigia o nelle comunicazioni delle varie associazioni di categoria ma al di là di quello che non ha fatto l'Italia la cosa interessante è che questo questionario nella parte relativa al diritto amministrativo non ha avuto risposte da pochissimi paesi il paese più importante che ha risposto è stato la Germania ma è stato anche il più sincero ha detto non la conosciamo e non l'abbiamo nemmeno attuata i paesi che hanno risposto con dei ni con dei si erano paesi come la Lituania la Finlandia o quant'altro ma hanno poi dato delle risposte abbastanza timide ovviamente la risposta dell'Inghilterra è stata una risposta sì come no le ADR le conosciamo eccetera ma lì il sistema è completamente diverso e io non ho voluto parlare del sistema inglese perché inserire il problema del sistema inglese dei tribunali nelle ADR forse vuol dire fare un torto sia all'Inghilterra che alle ADR nel senso che si andrebbe soltanto a rendere più complicato un fenomeno in realtà in Inghilterra c'è una tradizione di un certo genere che si sposa ovviamente sulla peculiare natura del giudizio nei confronti dell'amministrazione quindi sulla peculiare natura e posizione costituzionale dell'amministrazione dello stesso diritto amministrativo quindi la risposta dell'Inghilterra è una risposta sì certo la conosciamo ma poi in dettaglio l'Inghilterra ha sempre fatto in un certo modo e continua in parte a fare in un certo modo per cui io interrompo qui la mia relazione senza concluderla perché vorrei sapere da chi seguirà se la conclusione del 2007 è una conclusione che si potrebbe ribadire nel 2016 o se nel frattempo c'è qualcosa di nuovo di diverso soprattutto se quello che è nuovo è anche bello o no tanto vi ringrazio sì certo allora non rispondo subito all'interrogativo finale non so se sarò in grado di rispondere neppure alla fine delle cose che dirò però vediamo se viene fuori da sé insomma allora intanto volevo dire che l'alternanza delle relazioni è felice io sono particolarmente felice di fare l'uomo sandwich insomma tra due studiosi insomma della materia dal punto di vista teorico io mi limiterò semplicemente a illustrare i piccoli tentativi sperimentali e fai da te fai da te che abbiamo cercato così nel corso di qualche tempo insomma di fare al tardi Brescia mi corre l'obbligo come dire di una piccola premessa e di una conclusione finale diceva però non è solo così solo a modi battuta l'uomo senso nel senso che alcune cose insomma che il professor Cassatella ha detto le trovo proprio insomma sperimentate dal punto di vista pratico e quindi mi sono molto utili per riprenderle come dire le cose che cercherò di dire hanno tutt'altro taglio se vogliamo dare un riferimento nobile potrebbe essere i tentativi o i modelli di legal clinic di clinica legale che c'è appunto nel mondo anglosassone come l'università di Yale l'università di New York eccetera quindi la sperimentazione sui casi in Italia qualcosa del genere credo ci sia alla Lewis e all'università di Brescia anche e quindi cercare di vedere appunto dal punto di vista pratico con alcuni casi che seguiremo direttamente dal nostro sito le cose premesse insomma per cercare di dare anch'io una cornice insomma se no sembra troppo pratica la cosa cioè cercare di spiegare il perché insomma abbiamo tentato ripeto sempre in maniera artigianale il fai de te eccetera di muoverci oltre al solco tradizionale oltre al seminato classico proprio per questo nel senso che quando ho interrotto il professor Cassatella prima a proposito di un considerando del raccomandazione del Consiglio d'Europa e gli ho detto appunto beh l'affermazione in sé se generalizzata come principio eccetera probabilmente no ma se circostanziata ha un senso nel senso che io credo che perlomeno parlo qui per me insomma in 30 anni di esperienza di magistratura amministrativa mi sono reso conto quando insomma la sentenza poteva non solo decidere il caso ma dare giustizia sul serio nel senso di una effettività reale non solo giuridica e quando invece no nel senso che non era lo strumento adatto proprio e quindi ho sperimentato poi ho visto che ovviamente ci sono gli studi su questo eccetera nel senso che esiste una giustizia non giurisdizionale cioè la giurisdizione arriva fin dove può ci sono una serie di casi dove invece non è lo strumento adatto in questa zona grigia insomma se vogliamo così per ripetere un'espressione letteratura grigia un aggettivo insomma che è già stato detto prima si collocano esattamente quei tentativi che abbiamo cercato di fare questo perché perché il nostro giudizio ontologicamente sfugge proprio a quell'esigenza che il professor Cassatella diceva prima nel senso che la mediazione e conciliazione hanno un senso quando tutte le entrambe le parti guadagnano qualcosa il problema è che il nostro giudizio è un giudizio di legittimità perlomeno quello generale di legittimità è un giudizio binario è un giudizio sì sì no no è un giudizio se vogliamo andare con pollice al salto o pollice verso e quindi uno o vince tutto o perde tutto allora ci sono certi casi anzi la maggioranza dei casi anche performamente nostra performamente delle parti delle difese tecniche delle parti in cui questo funziona una serie di casi in cui questa logica binaria non funziona più è possibile qualche volta cercare come dire un equilibrio con degli annullamenti parziali ma questo è possibile se le domande sono più di una non solo se i provvedimenti impugnati sono più di uno in parte a Collin in parte no se ci sono motivi aggiunti eccetera eccetera e quindi l'annullamento parziale su un singolo atto intervenire col bisturi qualche volta si fa ma insomma non sempre il risultato finale è l'ottimale per dare giustizia concreta al caso singolo con la collega Bertagnoli che qui poco tempo fa abbiamo cercato di prendere come esempio le sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale e nel senso che nel rispingere un ricorso un ricorso molto complesso su una discarica che aveva avuto anche appunto momenti di tensione sociale della pacificazione sociale eccetera eccetera ricorso proposto da quattro comuni esponenziali dell'interesse di una collettività c'era stata una manifestazione di 10.000 persone eccetera eccetera abbiamo rispinto questi ricorsi però come dire con delle prescrizioni dicendo guardate i ricorsi in sé le impugnative non regolano eccetera eccetera però le parti sappiano la parte privata ci vince sappia che però deve fare questo e questo allora siamo andati un po' oltre non solo per agganciarmi a quello che il professor Cassatella ha detto in quel caso che era un caso complesso eccetera lui stesso ha dato atto come dire della situazione a macchia di Leopardo delle pronunce dei tar del giudice amministrativo soprattutto di primo grado e sai meno di secondo grado per quanto riguarda l'accertamento del fatto quindi cominciare come dire a virgolette scusate il termine sporcarci un po' le mani col fatto in quel caso avevamo fatto non una CTU ma due CTU con un team del Politecnico di Milano per verificare dal punto di vista tecnico le cose quindi eravamo anche più forti nel dare delle prescrizioni dire il riscorso è respinto l'autorizzazione alla discarica c'è ma le prescrizioni sostanzialmente di massima ve le diamo a noi il percorso futuro deve essere questo primo altre cose come dire per avvicinarsi un po' cose e quindi questo eccezionalmente può succedere ancora anche qui un richiamo a quanto il professor Cassatella ha detto prima la tecnica del remand del riesame in sede cautelare spesso diciamo all'amministrazione guarda qui c'è qualcosa che non funziona riprovvedi ma questa è una tecnica abbastanza consolidata e quindi direi che non c'è moltissimo insomma da dire in più insomma se per chiudere questo primo aspetto insomma se ho letto anche questo quindi non c'è nulla della farina del mio sacco da questo punto di vista ma l'acronimo nel giudizio amministrativo ADR io lo leggerei più scusate il mio pessimo inglese dato ormai alle scuole medie quindi quindi l'aggettivo ADR non lo punterai su alternative dispute resolution ma su l'ho letto appropriate dispute resolution cioè lo strumento più appropriato per dare una giustizia non giurisdizionale e anche questo appunto in parte esiste perché tutte le altre motivazioni che anche ho visto nella raccomandazione del Consiglio d'Europa ci sono eccetera insomma a livello di grandi numeri per ora non le vedo applicabili direttamente al nostro processo salvo che non ci sia una riforma organica di sistema per esempio una riforma appunto dei ricorsi amministrativi qualcuno dal punto di vista teorico dice di rivitalizzare lo strumento del ricorso gerarchico improprio perché appunto questo consente una posizione di diversità del soggetto eccetera eccetera ma insomma a conti fatti io quindi non vedrei l'ADR rapportata al nostro processo né come uno strumento deflattivo del contenzioso salvo che non si introducono i filtri quindi ricorsi amministrativi obbligatori come per esempio in Francia eccetera ma insomma senza una riforma di sistema lo vedrei come uno strumento aggiuntivo complementare per dare appunto la giustizia effettiva del caso singolo laddove la sentenza non può giungere e per cercare di spiegarmi meglio se posso una digressione un po' ardita che ho prima chiesto il permesso di fare ai due relatori è questa la prima slide del professor Cassatella è le ADR tra tradizione e modernità perfetto questo è un assist come dire a sua insaputa che il professore mi ha appunto dato perché perché io lui è arrivato all'ottocento circa 1800 se voi siete d'accordo io andrei a oltre 2000 anni fa e quindi prendere come primo caso esempio pratico prima di arrivare nel prossimo quarto d'ora venti minuti a quelli del Tal Brescia è un esempio tratto dai classici greci e quindi dall'Orestea di Eschilo siamo nel 458 avanti Cristo è terminata la guerra di Troia Agamemnon ritorna in patria nel suo argo di cui è re viene ucciso dalla moglie clitennestra e dal suo amante il figlio Oreste vendica la morte del padre uccidendo la madre il problema allora comincia a porsi in questi temi intanto siamo in una fase di transizione come dire dal punto di vista culturale dal punto di vista di contesto siamo nella fase in cui c'è il passaggio dagli dei preolimpici agli dei olimpici cioè è compasso sulla scena Giove e i figli di Giove Apollo e Atena mentre gli dei preolimpici sono le erinni le erinni hanno come compito principale le erinni insomma quelle cattive insomma hanno come compito principale quella di vendicare gli assassini dei familiari Apollo il figlio di Deus invece dà come nuova norma quella di vendicare l'onore del padre e quindi in questo caso Oreste si trova nel conflitto tra le due regole perché uccide la madre che è un consanguino e però lo fa legittimato dalla nuova regola data appunto da Apollo Minerva ho detto il nome latino insomma perché veniva in mente appunto Minerva nata dal cervello di Giove eccetera quindi Atena che è la dea protettrice di Atene questo è ovvio lo dice il nome stesso direbbe qualcuno e che quindi è la quintessenza della razionalità è nata direttamente dal cervello di Giove eccetera a Atene viene chiesto di fare da arbitro in questa contesa quindi perché allora la giustizia funzionava così c'era solo l'arbitro non c'erano i tribunali non c'erano i giudici di professione eccetera ma siamo in questa situazione di passaggio Minerva di nuovo scusate ma qui il latino prevale Atene idea della razionalità eccetera eccetera no istituiamo un tribunale quindi istituisce al posto dell'arbitrato un tribunale col compito di giudicare questa situazione il tribunale è l'aereopago che avrà di lì in poi il compito di esercitare giustizia interpretando le regole date dagli dei la nomofilachia viene di lì viene dall'aereopago perché lì hanno cominciato a interpretare appunto la volontà divina le regole eccetera eccetera bene sembra che tutto funzioni il tribunale si riunisce e che cosa succede? è spaccato esattamente a metà metà è per la condanna di Oreste e metà per l'assoluzione di Oreste viene allora a questo punto interviene Minerva scusate non ce la faccio è più forte di me interviene Atena e dice no no Oreste deve essere salvato da questo punto di vista viene anche messo un terrore tassello perché sarà di lì in poi anche nel diritto attico che in caso di parità tra i due verdetti di giuria spaccato in due prevarrà la posizione favorevole al re o il cosiddetto voto di Atena bene e quindi Oreste si salva eccetera eccetera ecco qui sarebbe qui ci dà la misura qui finisce la giustizia giuridizionale il tribunale ha dato la sua sentenza Oreste è salvo e qui finisce la storia piccolo problema quello della pacificazione sociale le rinni non si accontentano essendo i rinni lo dice il nome stesso di nuovo non si accontentano e quindi sarebbero pronte a scatenare tutta la loro violenza e tutta la loro come dire vendetta e quindi a mettere in crisi anche il rapporto sociale e i rapporti sociali che nella città c'erano perché non si accontentano di questo verdetto che ritengono ingiusto secondo la loro primordiale logica e la legge vigente prima allora Atena che cosa fa dice va bene guardate adesso io faccio erigere ai piedi del monte Ares quindi appena si arriva verso Atene un tempio in vostro onore dove i cittadini vi onoreranno non solo ma vi do anche la cittadinanza di Meteci e cioè il diritto che gli stranieri avevano di partecipare alla cittadinanza di Atene questo giunge a completamento e questo garantisce la pace sociale allora a me pare insomma senza volere enfatizzare troppo come spesso insomma si dice avevano già capito tutto forse a quei tempi passiamo dall'arbitro prima al tribunale grosso passo avanti dal punto di vista giuridico eccetera eccetera ma ci sono delle situazioni in cui questo non basta ci vuole un di più e quindi questo è lo spazio appunto grigio eccetera eccetera che molto molto in piccolo forse abbiamo cercato di colmare in pochissimi casi non pensate stiamo parlando di una decina di casi nel giro dell'ultimo triennio o qualcosa in più ultimi 4-5 anni intanto vediamo un po' quelli non formalizzati per cui non devo ancora andare sul sito le ho divisi anche noi abbiamo cercato come dire di dividere a seconda dei contendenti e allora abbiamo avuto un caso in cui caso classico privati contro un'amministrazione pubblica era un esproprio per una per la realizzazione di una pista da sci in un comune della Val Camoni che in alto eccetera eccetera come dire ovviamente la pista doveva essere fatta non c'era l'incontro fra le parti per come dire dare qualcosa di compensativo al privato spostarla quel tanto che bastava eccetera eccetera abbiamo fatto un incontro informale la cosa era emersa in camera di consiglio per la domanda cautelare che era stata opposta verso il decreto di esproprio e abbiamo detto qui vediamo un po' qui appunto la soluzione binaria non è che funziona diamo tutta la ragione una tutta la ragione all'altro e creiamo scontenti entrambi e li abbiamo chiamati un'unica volta il sindaco funzionario avvocato eccetera eccetera della causa non abbiamo saputo più nulla presumiamo che sia andato bene questo tentativo di mediazione conciliazione eppure di semplice moral suasion ma io credo che in quel caso sia servito semplicemente avere un tavolo dove dall'altra parte sapevano che forse erano dei giudici insomma che quindi un'autorevolezza minima delle cose che dicevano di buon senso voglio dire un altro poter essere primo punto poi abbiamo questo però ipotesi un po' rara fortunata forse eccetera eccetera poi abbiamo detto ma forse è il caso di sperimentare questo tentativo quando a contende tra loro sono due amministrazioni pubbliche a volte sono le amministrazioni che fanno ricorso contro probabilmente di un'amministrazione diversa in questo caso erano due comuni che litigavano in temere proprio in tutti i sensi sia tecnico giuridico ma non solo per come raccordare tra loro la diversa disciplina di viabilità di due strade che confinavano l'uno all'altro allora uno voleva chiuderlo all'accesso ai camion diciamo ma vengono tutti dalla mia parte eccetera eccetera abbiamo tentato con i sindaci le rispettive difese tecniche eccetera eccetera e non ci siamo riusciti lì attenzione quindi privato e amministrazione forse è andata bene tra i sindaci no i sindaci piccoli comuni irremovibili no qui da me non devono passare i camion non devono passare di là eccetera non c'è stato nulla da fare è significativo poi ecco questo caso qui adesso qui forse cominciamo a andare questo è un po' lungo vabbè un altro caso dove il soggetto non era diciamo né privato né pubblico era da terzo settore era una fondazione che era l'erede di una ipab storica che gestiva una casa di assistenza di cura eccetera eccetera la situazione questa la racconto a voce solo la situazione era questa un comune del mantovano di 1500 anni insomma si era disinteressato del pagamento della retta di un suo ospite per 30 anni non l'aveva mai pagato aveva accumulato quindi un debito di circa 300.000 euro con gli interessi legali erano 150.000 euro in più nella sentenza di primo grado nostra che diceva il comune deve pagare eccetera eccetera il comune nel processo di primo grado non si era costituito siamo al 2009 l'aveva appellata al consiglio di stato ma il consiglio di stato aveva confermato la nostra sentenza ci torna in ottemperanza e a quel punto diciamo beh insomma c'è un soggetto insomma che ha un interesse non interamente privatistico la fondazione c'è lo statuto una missione sociale il comune eccetera vediamo se si giunge a un compromesso e di nuovo chiamiamo qui non solo per più volte sindaco assessore bilancio da un lato direttore generale della fondazione dall'altro eccetera si giunge a questa ipotesi di compromesso nel senso che la fondazione dice su una cosa non posso transigere che le rette non mi siano state pagate io rinuncio agli interessi che erano 150.000 su 300.000 euro però le rette le voglio allora diciamo è giusto è assolutamente giusto no il comune no cioè di fronte a una cosa noi eravamo increduli non hanno accettato questo che mi pareva il vantaggio da entrambe le parti e non solo ma quando si era giunti insomma quasi avevamo interrotto il giudizio di ottemperanza per interrotto il giudizio di ottemperanza per appunto fare questi tentativi di mediazione e conciliazione a latere all'improvviso quando era fissato il successivo incontro e la camera di consiglio perché si prendesse atto dell'intervenuto accordo oppure no ci vediamo notificare da parte del comune un regolamento preventivo di giurisdizione giurisdizione ora sì appunto possiamo saltare tutti dalla sedia c'era stato già il giudicato sul punto perché l'eccezione c'era stata sia in primo che in secondo grado c'era il giudicato sulla giurisdizione del giudice amministrativo con un vogliamo chiamarlo escamotaggio non so comunque con una cosa che faccio qui un po' da Irini che grida vendetta dal punto di vista della temerialità viene proposto il regolamento preventivo di giurisdizione ci viene chiesto di sospendere il giudizio di ottemparanza ovviamente noi facciamo la sentenza molto dura la sentenza però richiama alla espressamente in un capo questo qui possiamo fare se vogliamo vabbè è lo stesso sono più belli gli altri tanto mai l'ho fatto quasi tutto a voce la sentenza richiama spessamente in un capo al capo 13 i tentativi di conciliazione e di mediazione che c'erano stato e l'atteggiamento come dire non collaborativo non ispirato all'88 del codice di procedura civile che il comune aveva avuto quindi esce la nostra sentenza nel 2012 il regolamento preventivo di giurisdizione viene respinto con un'ordinanza quindi perché è manifestamente infondato dalle sezioni unite che invece non giungono al punto di condannare per i temerari come secondo me sarebbe stato giusto perché dicono la fondazione non ha dimostrato come dire il danno che ha subito da questo ulteriore scamotage processuale insomma motivazione un po' un po' così ma è illuminante la cosa perché ovviamente noi nominiamo un commissario adatta qui c'è Maria Elisa siamo in una situazione di debito fuori bilancio chiaramente quindi c'è tutta la procedura alla corte dei conti eccetera eccetera nominiamo un commissario adatta nella persona del prefetto suo delegato e anche lì molta timidezza cioè è difficile l'effettività come dire è difficile raggiungere perché il commissario dice no io qui non posso perché non ci sono i soldi a bilancio non ci sono scusi c'è il giudicato lei deve attuare il giudicato quindi resistenza attuare il giudicato dopo 30 anni eccetera eccetera e mi pare illuminante questo piccolo caso dobbiamo intervenire anche sul commissario d'acto abbastanza pesantemente stavo per dire attenzione perché qui ci sono una serie di cose e a quel punto diamo nuovi temi diamo direttive precise eccetera eccetera il comune riesce nell'arco di tre esercizi tenuto conto che il bilancio comunale era poco più se non vado erato di voglio dire poco più di un milione e mezzo all'anno quindi la cifra era significativa riescono a sparmare il debito fuori bilancio eccetera eccetera e alla fine però pagano nell'arco di tre anni tutti i 450.000 euro cioè i 300.000 più gli interessi legali questa è come dire una vicenda emblematica che adesso però solo per questo siamo forse sarà qui adesso andiamo sul sito allora andiamo sul sito della giustizia amministrativa punti t posso fare un piccolo spot sul sito va bene allora ogni tanto vi consiglierei di buttarci l'occhio perché diciamo dall'inizio dell'anno è un sito che è implementato ci sono articoli di dottrina ogni tanto anche autorevoli se non vado errato c'è un recente commento della consigliere di stato nonché capo della segreteria tecnica del ministero Orlando Rosario De Nictolis sul nuovo codice appalti e poi ci sono tutte le principali insomma pronunce di dare consiglio di stato che ogni tanto una ogni tanto è pubblicata il sito è assolutamente libero free eccetera e quindi qualche contenuto utile può esserci ma quello che ci interessa è il motore di ricerca anche questo accessibile a tutti eccetera vediamo se do doppio clic eccolo qua allora noi siamo a no dobbiamo andare qui non so il numero della cosa dobbiamo andare allora ho il numero di ricorso solo con il numero di ricorso si vede la storia processuale adesso dopo aver fatto lo spot evidentemente il sito ha imballato quindi ah no vabbè ci siamo ricorsi allora 1024 del 2011 vedete qua l'emozione non è velocissimo siccome dal primo luglio parte il processo amministrativo telematico vediamo un po' recupero dei dati in corso ecco qua qua ci sono tutte le fasi processuali come vedete commissario ad acta relazione trasmissione ricorso a cassazione c'è tutta la storia processuale che vi ho detto se la conclusione è questa ordinanza collegiale del 2014 dove si giunge a conclusione si è dato che è stato pagato tutto bene ora visto che ve l'ho raccontato quasi tutto a voce 10 minuti 10 minuti allora vediamo invece i casi più limitati allora questo qui 2015 2061 quando sono solo lavoro meglio non è la dimostrazione pubblica va bene qui adesso eccolo qua allora questa qui siamo in comune di Brescia quindi un comune attrezzato da ogni punto di vista con un ufficio legale interno eccetera eccetera la controverse è abbastanza banale cioè è la regolamentazione di un'area di sosta che ha avuto come si dice a un certo punto nell'ordinanza nella prima che è questa eccola qua visualizza ecco chi potesse andare dovrebbe apparire qui la regolamentazione è come dire oggetto del contendere tra gli abitanti della zona e gli esercenti che insistono dove è il dove appare eccolo qua era qui era questo neppure questo devo tornare a aprire mi è tutto scomparso dove erano qua le cose eh ma questo l'ho fatto eccolo qua benissimo sì ma io avevo cliccato per aprire il non si è aperto non si apre a casa si apriva a casa mia quindi terribile questo nel sito non si apre vero ma perché non si apre no no ma questo dovrebbe essere pubblico ah pop up bloccato no no questo è il sito il sito pubblico questo è il sito pubblico dov'è pop up bloccato che non lo vedo dove è scritto pochino faccia vedere lei dov'è qua questo è bellissimo questo non ah quello questo è il sito pubblico non senti non senti questo 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 sì è quella ecco eccola va bene allora allora qui c'è tutta la c'è un po' il fatto eccetera eccetera come qua si dice la disciplina della sosta nell'area ha registrato un andamento a del poco rapsodico nel senso che l'area era a libera sosta fino al 2014 poi è stato introdotto il disco orario erano 12 stalli per 8 stalli su 14 allora l'area a libera sosta andava bene ai residenti ovviamente i commercianti hanno detto gli spazi sono occupati sempre chi viene per il bar eccetera eccetera non può trovare posto quindi 8 stalli su 14 vengono messi a disco orario e non va bene neppure questo i commercianti vogliono avere una liberizzazione totale e una regolamentazione totale su tutti i 12 stalli qua che cosa diciamo e il ricorrente lamenta quindi in relazione alla creazione appunto di 8 stalli a sosta regolamentata rispetto ai 12 stalli una contrazione degli incassi del 40% circa non solo poi dice io con gli altri commercianti siamo disposti a proporre una soluzione alternativa che consiste nella introduzione delle cosiddette strisce blu a pagamento questo su qualche stallo questo chiaramente per i residenti non può andare bene e noi che cosa facciamo diciamo vabbè per ora non ci pronunciamo sulla cautelare perché l'ultima regolamentazione è entrata in vigore da troppo poco tempo diamo un altro periodo di sperimentazione fino alla fin dell'anno diamo mandato alla polizia locale di controllare a vedere l'utilizzo degli spazi di sosta com'è e diamo però tempo anche al ricorrente di effettivamente presentare la sua proposta migliorativa per l'introduzione delle strisce blu e rimandiamo siamo dal 28 ottobre alla Camera di Consiglio del 27 gennaio qui la faccio breve perché è un piccolo farterello gli altri sono più significativi alla Camera di Consiglio del 27 gennaio che cosa succede? c'è una relazione della polizia urbana dove dice noi siamo passati più volte gli orari di sosta sono rispettati non abbiamo elevato quasi mai delle multe quindi la rotazione c'è spesso c'erano anche degli stalli liberi e soprattutto chiediamo è lei ricorrente con i conoscianti avete presentato una proposta alternativa su di Siblu no perché ancora il nostro tecno era pronto chiaramente a quel punto la cosa si chiude abbiamo respinto la cautelare ora questa anche qui è un fatterello insomma simpatico adesso devo trovare esattamente sarà questo suppongo esatto questo è recentissimo allora torniamo su non è più bloccato speriamo adesso allora qui siamo al 2015 ancora siamo presse i nove quando siete stanchi ditemelo allora questo ve li illustro rapidamente a voce qui è un ricorso in materia di urbanistica contro il piano di governo del territorio di un piccolo comune di 600 anime presentato nel 2015 all'interno del quale venne presentata anche una domanda di accesso per avere accesso a tutti gli atti tecnici di corredo al PGT noi ci pronunciamo una prima volta solo sulla domanda di accesso che è incidentale ricorso principale 29 luglio 2015 è un'ordinanza collegiale che riconosce il diritto di accesso o deve avere appunto accesso agli atti in quanto è un proprietario che probabilmente rientrerà nella categoria degli espropriati in base alle nuove previsioni di piano dal 29 luglio il comune non dà affatto accesso agli atti quindi non dà esecuzione all'ordinanza collegiale che però appunto ha la forma e la statuizione e il contenuto di sentenza la forma no ma il contenuto sì quindi decide l'accesso in questo senso cosa fa il privato torna in sede di ottemperanza e qualche mese dopo e dice guarda che qui non non mi è consentito l'accesso eccetera con questa ordinanza qui vediamo allora con i numeri che vedete dovreste essere in grado anche voi di risalire di fare tutta la storia processuale eccetera con questa ordinanza qui abbiamo come dire una piccola intuizione nessun provvedimento trovato e cioè visto che è un comune di 600 anni visto che eccola qua è l'ordinanza 476 del 2016 anche qui la faccio breve e sostanzialmente qui si rifà tutta la storia tutto il primo ricorso per l'accesso accolto la sede di ottemperanza in cui ci si trova e dice qui noi al punto 6 6 e 7 saltiamo direttamente come dire tutta la struttura amministrativa e burocratica è un piccolo comune e chi è che come dire decide tutto nel piccolo comune il sindaco e quindi abbiamo disposto l'audizione del sindaco del comune di Anzo alla camera di consiglio del 20 aprile perché ci venisse a spiegare le ragioni eccole qua i motivi della mancata esecuzione dell'ordinanza che ha disposto l'accesso l'indicazione di una nuova tempistica per l'accesso ai costi di riproduzione e poi le cose specifiche sull'immobile che interessava al ricorrente e con l'audizione del sindaco alla camera di consiglio del 20 aprile eccetera arriva direttamente il sindaco con un plico di carte così e quindi l'accesso è stato possibile perché avendo investito direttamente il sindaco abbiamo saltato tutti i vari passaggi non è molto corretto da un certo punto di vista forse ci sarebbe da che ridire però il sindaco si è presentato direttamente il risultato è stato che questa causa era chiamata per il merito all'udienza pubblica della settimana prossima per decidere il merito sull'impugnativa al piano regolatore ovviamente la parte pochi giorni dopo ci ha presentato domanda di rinvio ho detto devo esaminare i nuovi atti vedo se fare motivi aggiunti o vedo anche se siccome il sindaco ha detto ma noi li abbiamo dati perché abbiamo elaborato un nuovo progetto di cui nessuno sapeva nulla e allora lui dice ma vedo anche se nel nuovo progetto le mie aspettative sono riconosciute o meno quindi potrebbe anche venir meno l'interesse alla decisione di merito bene veniamo di chiudere con l'ultima torniamo questa la chiudo questa pure allora andiamo alla home l'ultima è la più carina ed è siamo sempre 2015 siamo velocissimi allora 2116 allora questa è la più carina perché è la soppressione di un ufficio postale nel comune di Crema uno dei quattro uffici postali delle frazioni del comune di Crema la soppressione dell'ufficio postale era stata comunicata al comune in una certa data e doveva avere era stata comunicata nell'agosto 2015 il comune aveva non solo usufruito del tema decadenziale di 60 giorni ma anche del periodo di sospensione feriale dei temini e ha presentato il ricorso insomma a pochi giorni prima il 23 ottobre pochi giorni prima che l'ufficio postale dovesse essere chiuso l'ufficio postale doveva essere chiuso il 26 ottobre del 2015 allora il decreto cautelare è stato rispinto perché ha detto potevi deciderti un po' prima perché così la camera di consiglio avrebbe potuto esaminare la domanda cautelare ordinaria ma in camera di consiglio a novembre eccola qua ecco questo è il tentativo forse di mediazione più interessante teniamo conto appunto che la vicenda si prestava teniamo anche conto che questa tipologia di ricorsi è stata quasi sempre accolta in tutti gli altri tar tar Firenze Liguria eccetera e noi invece abbiamo fatto un percorso di tipo diverso il decreto cautelare è stato rispinto quindi l'ufficio è chiuso quindi la situazione è azzerata quando ci troviamo a discuterlo a novembre una prima volta diciamo eccola qua allora mettere a B diciamo la decisione di chiudere l'ufficio postale in questa frazione non sembra aver creato una situazione di disagio così grave da imporre un immediato ripristo cioè una apertura ex novo e però in vista della decisione di merito è necessaria un'analisi più approfondita per stabilire che cosa se la collettività effettivamente quali danni la collettività da questa chiusura dell'ufficio postale può risentire soprattutto in relazione alla tipologia della popolazione che insiste su quella frazione se è anziano o meno eccetera e allora disponiamo una ecco qua a questo fine lettera D viene disposta una istruttoria nella forma di un tavolo di confronto mediazione tra il comune e poste attraverso tale interlocuzione che proseguirà fino alla camera di consiglio da novembre fino al 23 marzo quindi rimandiamo a un tavolo fra le parti dovranno essere valutati tutti gli elementi in grado di misurare l'utilità dell'ufficio postale soppresso il numero degli utenti eccetera i collegamenti viari con gli altri uffici postali la diffusione dello strumento del postino telematico eccetera bene la fissazione degli incontri e le modalità di raccolta dei dati sono rimesse alla regia qui siamo un po' lasciati andare cabina di regia eccetera eccetera del segretario comunale con facoltà di delega a un altro dirigente ci ritroviamo chiudiamo ci ritroviamo due mesi fa e che cosa succede? qui la cosa è abbastanza positiva insomma adesso vi dico in quali termini ma perché alla prima volta non me lo dà vabbè l'ordinanza assunta il 23 marzo rifà tutta la storia eccetera ecco il punto 6 il comune nel tavolo ha formulato tre proposte alternative l'organizzazione degli orari di tutti gli uffici postali per vedere se in quella frazione è possibile tenere aperto l'ufficio a meno tre giorni alla settimana ci è proposto di sostenere le spese cioè di far fronte alla perdita economica del servizio universale che lamentava poste e ha proposto di unificare in una posizione logisticamente intermedia a quella tra l'ufficio soppresso e l'ufficio più vicino un nuovo ufficio poste replica che le prime due soluzioni non sono praticabili perché non può complessivamente andare a rivedere l'organizzazione di tutti i suoi uffici personali eccetera eccetera la seconda non è praticabile dal punto di vista normativo perché non è possibile secondo l'accordo di programma tra poste e ministero che gli enti locali si facciano carico di spese a vantaggio di poste e sulla terza dice anche sulla terza che è teoricamente possibile avrei qualcosa da dire perché comunque vuole insisterne nella soppressione totale noi diciamo va bene sulle prime due anche noi pensiamo che non ci sia possibilità di dare seguito rivedetemi invece sulla terza vedete se effettivamente la possibilità di istituire un ufficio intermedio tra quello soppresso e quello più vicino ha delle possibilità di andare avanti e rimandiamo quindi alla camera di consiglio del 22 giugno quindi tra un mese e perché intanto ulteriore confronto tra comune e poste sulla terza proposta e di nuovo diamo mandato al segretario comunale di tenere le fila del tutto la cosa interessante è questa che c'è stato un piccolo colpo di scena e cioè nel frattempo è mutata la politica di poste italiane rispetto alla soppressione degli uffici quindi in questo tempo non abbiamo perso tempo ma guadagnato tempo perché dal primo gennaio 2016 queste sono notizie di stampa è entrata in vigore il nuovo accordo di programma tra poste e ministero che valorizza esattamente la diffusione capillare di poste sul territorio e quindi dei 400 uffici che a livello nazionale non sono stati soppressi intendeva sopprimere i 200 già soppressi viene confermata la soppressione ma quelli che non sono stati soppressi c'è un incentivo nel nuovo accordo di programma a mantenerli quindi è possibile che questa terza soluzione possa andare avanti ora non so se da queste cose insomma troppo lunghe poi mi scuso insomma sulla non brillante dimostrazione telematica eccetera e informatica ma insomma solo tre cose finali queste sarò veramente rapido la prima come vedete vi ho detto è il fai da te il bricolage eccetera eccetera però insomma qualche risultato in cui l'abbiamo ottenuto come in tutte le cose delusioni cocenti come nel caso della fondazione Sospiro però insomma si può continuare è ovvio che sono cose insomma come dire che a volte servono ma stiamo parlando di casi sparuti è ovvio che occorre come dire invece avere una solidità normativa su cui poggiare esperimenti di questo tipo allora primo punto nell'originario disegno di legge e progetto di legge del codice amministrativo c'era tutta una fetta che riguardava proprio mediazione conciliazione rimodulazione dei ricorsi amministrativi e anche in via precontenziosa come filtro necessario tutto questo nel codice non c'è ed è è saltato forse non c'erano i tempi o non c'era la cultura come dire pronta cinque anni fa teniamolo presente però quindi un repesciato da questo punto di vista non credo che sarebbe male secondo un appello normativo c'è forse c'è è una forzatura ma come vedete insomma non è che cerchiamo in primo grado qualche forzatura di farlo è una forzatura e forse dobbiamo essere grati a un legislatore che improvvidamente inserisce nomi processuali qua là dove gli capita per esempio nella legge di stabilità 2016 ha inserito l'articolo 71 bis del codice del processo amministrativo la ratio della norma è chiara perché il contesto è chiaro ha rimodulato la fase che si apre con la presentazione delle domande di prelievo e cioè con le domande di cui si chiede una trattazione anticipata rispetto all'ordine di ruolo e questo lo ha fatto perché tutti gli altri articoli della legge di stabilità 2016 che seguono o meglio commi perché anche qui siamo tornati all'articolo unico con 700 e passa commi hanno come razio come finalità quello di contenere l'indenisi della legge pinto c'è una riformulazione anche fine della legge pinto per poterla chiedere sei mesi di tempo di moratorio eccetera eccetera la ridisciplina dell'istanza di prelievo è chiaramente volta a questo cioè a consentire il prelievo di modo da non soggiacere la tagliola della legge pinto la norma è molto sintetica fortunatamente e dice così a seguito dell'istanza di prelievo di cui l'articolo 71 comma 2 il giudice accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria sentite sul punto le parti costituite può definire in camera di consiglio il giudizio con sentenze in forma semplificata la faccio breve qui c'è il può quindi questo significa che non è come le domande cautelare o le domande principali dove a una domanda va data una risposta binaria sì o no il giudice può ancora cioè sentite sul punto sul punto le parti costituite allora siccome il presupposto per poter decidere con sentenze in forma semplificata i ricorsi assistiti da istanza di prelievo è che l'istruttoria sia completa e che il contraddittorio in senso ampio sia completo non è escluso che facendo leva su questa norma si possa come dire procedimentalizzare un po' l'ultimo esperimento che vi ho fatto vedere prima cioè il tavolo tra le parti e si possa quindi tentare lì una mediazione conciliazione ora le condizioni sono uno appunto che ci sia la possibilità concreta allora qui la solita lamentera sulle risorse eccetera eccetera vi do però un solo dato il giudice di appello in questo momento che è composto sulla carta da poco più di cento unità ne ha in servizio poco più di cinquanta la situazione è generalizzata un po' nei vari tari quindi non c'è molto tempo tempo spazio per queste cose qui due ammesso anche che nel giro di qualche tempo con il nuovo concorso che sta avendo tempi biblici eccetera gli organici siano riportati a un livello di sufficienza quello che manca è la cultura della mediazione cioè noi abbiamo fatto i fight di te così però la cultura della mediazione non è prevista nel nostro concorso nella nostra formazione assai scarsa che ci viene data quindi il limite è questo ultimissima cosa e con questo chiudo c'è forse un treno da prendere che sta passando c'è ancora qualche tempo che è questo e l'università di Trento e il centro specializzato o gli studiatori eccetera potrebbero forse coglierlo ed è questo è stata istituita a marzo presso il ministero della giustizia una commissione apposita di analisi e riforme sulle ADR in senso ampio che deve terminare i suoi lavori il 30 settembre 2016 la commissione è preseduta dal professor Guido Alpa che non ha bisogno di presentazioni è in gran parte composta da processuali civilisti come professori e da magistrati ordinari c'è un'eccezione è presente anche il professor Fabio Cintioli il professor Fabio Cintioli che è docente di diritto amministrativo alla Lumsa di Roma credo se non vado errato però è un ex consigliere di Stato brillante consigliere di Stato eccetera che si è specificamente occupato del tema delle ADR in genere e anche nel giudizio amministrativo cioè fare arrivare un qualcosa un paper come si dice nel senso non so che cosa alla commissione perché tenga presente che questo tema va affrontato disciplinato e possibilmente insomma che una proposta specifica va fatta anche per il nostro processo c'è tempo fino al 30 settembre è probabilmente una cosa da tenere presente se no ci troveremo tra qualche tempo non più eccetera ancora con questi piccoli casi così di di fai da te per una riforma più organica credo che la possibilità concreta sia questa scusate buona notte Buonasera a tutti cercherò di essere rapida anche perché il tempo è trascorso e comunque molte cose sono già state dette molto bene dai precedenti relatori e anche in particolare da Antonio Cassatella che ha introdotto in generale il tema e che ringrazio anche per avermi invitato questo pomeriggio infatti già abbiamo esaminato in via generale quali sono i pro e i contro per l'utilizzo degli strumenti alternativi e strumenti alternativi rispetto ai quali già Antonio ha evidenziato e anche nella relazione del dottor Calderoni emerso non esistono delle definizioni precise e perciò ho indicato alcuni elementi caratterizzanti che mi permettono di identificare un modello di ADR per poi proporvi una sistematica di quali sono i rimedi che si trovano disciplinati nei diversi procedimenti di fronte alle autorità amministrativi indipendenti e quindi tentare una ricostruzione generale del tema appunto gli elementi caratterizzanti di tutti i procedimenti alternativi sono innanzitutto l'elemento funzionale che le fa somigliare in qualche modo al giudizio nel senso di risolvere i conflitti conflitti che possono essere già conflitti in essere e quindi già maturi per essere conosciuti già da un giudice oppure conflitti ancora potenziali che sono in uno stadio ancora tale da non essere di fronte a un giudizio in corso di giudizio secondo elemento è la consensualità cioè gli strumenti alternativi si basano sul consenso delle parti che scelgono di utilizzare questo strumento e questo elemento della consensualità è molto importante anche ai fini dell'esecuzione perché se nel giudizio possono trovarsi maggiori difficoltà come c'è stato ricordato prima dal dottor Calderoni in merito all'ottemperanza alle esecuzioni delle sentenze in teoria lo strumento consensuale trova proprio nel raggiungimento dell'accordo tra le parti un elemento di forza per una più facile esecuzione di quanto insieme si è deciso per risolvere la controversia in essere infine il terzo elemento che caratterizza in particolare le ADR di fronte alle autorità amministrative indipendenti è quello del tecnicismo cioè delle conoscenze tecniche richieste ai fini della risoluzione della controversia tali per cui rivolgersi a un soggetto terzo che possiede queste conoscenze tecniche che fornisce una garanzia di avere di fronte a sé un soggetto meglio in grado di fornire una soluzione che tenga conto di tutti i diversi elementi in gioco questi elementi caratterizzanti quindi sono quelli alla luce dei quali ragiono su questi strumenti alternativi e tento di costruire una sistematica degli strumenti alternativi alternativi come già è stato detto è stato ricordato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa è stato ricordato dal dottor Calteroni soprattutto ma anche come strumenti maggiormente appropriati e in questo senso è utile capire qual è la direzione nella quale il nostro ordinamento giuridico vuole andare nel momento in cui continua in diverse sedi come c'è stato ricordato anche da ultimo a valorizzare gli strumenti alternativi cioè gli strumenti alternativi devono forse per essere veramente per trovare davvero uno spazio nell'ordinamento devono essere strumenti che non hanno solo una efficienza deflattiva del contenzioso e quindi aiutano ad un risparmio di spesa e a un contenimento dell'utilizzo della risorsa e del servizio della giurisdizione ma piuttosto devono essere pensati anche come strumenti che forniscono una giustizia più adeguata e quindi che forniscono soluzioni diverse che servono e permettono tra loro talvolta di arrivare a una soluzione migliore tenuto conto del carattere dinamico e del carattere aperto della vicenda amministrativa in cui una vicenda un'attività amministrativa particolare per cui Giannigro diceva che il processo si colloca come una parentesi all'interno di un'attività che si svolge prima ma si svolge anche dopo il processo e quindi questi strumenti devono essere pensati e in questo c'è a me sembra emerga una nuova cultura in favore di questi strumenti che non vede più in una visione antagonista all'amministrazione antagonistica all'amministrazione il giudice la giustizia giurisdizionale la giustizia non giurisdizionale ma pensa ad un sistema di tutele che funzioni e che offra la maggiore la migliore soprattutto tutela possibile alle pretese dei cittadini questi strumenti di soluzione si trovano un po' di fronte a tutte le autorità amministrative indipendenti cioè vedete i regolamenti e le delibere delle varie autorità amministrative indipendenti contengono riferimenti a modi di risolvere la controversia non tradizionali si trova nel regolamento del garante alla protezione dei dati personali nelle delibere adagico dell'autorità dell'energia elettrica abbiamo l'arbitrato bancario e finanziario parleremo infine anche del nuovo rimedio di fronte all'ANAC e secondo me si possono individuare anche delle ADR di fronte all'autorità garante la concorrenza e mercato questo perché soprattutto nei settori regolati l'idea è che la tutela giurisdizionale rappresenti un estremo rimedio già la legge 4.1 del 95 nel momento in cui istituiva appunto le autorità di regolazione di settori diceva che prevedeva rinviava ad un successivo regolamento governativo che avrebbe dovuto disciplinare questi strumenti alternativi in assenza dell'adozione del regolamento governativo del DPR allora le singole autorità anche in base ad un successivo intervento del legislatore hanno poi adottato invece sistemi diversificati quindi i modelli sono tutti contenuti in tanti regolamenti diversi in tante delibere diverse ecco perché per non tediarvi ed annoiarvi a raccontare tutte queste diverse delibere e i diversi meccanismi mi è sembrato più opportuno cercare di costruire una sistematica di tutti questi diversi modelli che vi propongo cioè mi sembra che i diversi modelli di sistemi esistenti davanti alle autorità indipendenti per risolvere i conflitti prima e fuori dal processo possano i diversi le diverse normative esistenti ricondursi a tre modelli diversi il modello degli impegni il modello della regulation by litigation e il modello delle ADR vere e proprie pure in tutti questi modelli sino a poco tempo fa in realtà tutte queste autorità amministrative indipendenti in questi tre modelli che vi propongo non sono mai state chiamate a annullare i provvedimenti amministrativi quindi non abbiamo il rimedio tipico che si utilizza di fronte al giudice amministrativo ma invece in queste metodologie di risoluzione della controversia le autorità indipendenti esercitano una funzione di accertamento delle posizioni controverse senza intervenire sugli atti dell'amministrazione vediamo innanzitutto il modello degli impegni questo modello appunto è quello che forse rispetto alle quali si possono muovere si può muovere una qualche critica rispetto al suo inserimento tra i rimedi alternativi del conflitto in realtà è un rimedio che non è vero alternativo al giudizio ma che può essere considerato alternativo in quanto risolve un conflitto tra un possibile conflitto tra parti di una controversia perché gli impegni sono vedete previsti sia nei procedimenti nelle delivere e nei regolamenti di Agicom sia nei procedimenti che si svolgono davanti a GCM e sono utilizzati quando? Sono utilizzati in maniera diversa nei procedimenti davanti a GCM l'impegno può essere utilizzato all'interno di un procedimento sanzionatorio mentre in Agicom può essere utilizzato sia all'interno di procedimenti sanzionatori sia all'interno di procedimenti regolatori con l'utilizzo di che cosa in che cosa consiste questo impegno sia a seguito dell'avvio e della contestazione di un addebito da parte dell'autorità oppure a seguito dell'intenzione che permea dell'autorità di avviare un nuovo procedimento regolatorio i soggetti regolati possono vedete avanzare una proposta cioè un programma di azioni che serve a ripristinare il corretto funzionamento del mercato e quindi in questa proposta vi è un'iniziativa da parte di un soggetto privato che si rivolge all'amministrazione e tende a evitare il conflitto che può nascere dal provvedimento sanzionatorio e quindi dal successivo contenzioso giurisdizionale riguardo alla legittimità o meno della sanzione oppure dall'intervento regolatorio e dal successivo contenzioso che può nascere quanto agli effetti della regolazione e quindi tende ad evitare questo contenzioso attraverso un diverso modo di fare amministrazione un modo in cui si stempera il carattere unilaterale dell'esercizio del potere amministrativo e si rimette in realtà al potere creativo delle parti la capacità di individuare nel modo migliore l'interesse pubblico e per questo una modalità che rispetto alla quale ci vuole una particolare attenzione nella disciplina dei procedimenti per raggiungere questi impegni quindi quando prima Antonio parlava dell'importanza della procedimentalizzazione della motivazione rispetto a questi atti questo rileva soprattutto quando viene in gioco nella funzione di risoluzione della controversia anche un interesse pubblico che quindi non deve essere in qualche modo compromesso dall'intervento di soggetti privati accanto a questo primo modello che appunto è quello che forse non è così prettamente di ADR ma che comunque a me sembra sia in grado di introdurre elementi di consenso di tecnicismo e di soluzione di possibili conflitti prima dell'intervento del giudice abbiamo poi l'altro secondo modello che è quello della cosiddetta regulation by litigation che appunto è un modello in cui vi è una sorta di mediazione facilitativa utilizzando la nomenclatura di Luiso in cui appunto è di processual civilisti quindi una mediazione facilitativa cioè una mediazione una risoluzione della controversia che non è tanto fondata sulle pretese delle parti sull'accertamento delle pretese delle parti ma che mira a curare tutti gli interessi in gioco e questo è particolarmente importante rispetto appunto alla attività di regolazione cioè cosa succede? Si tratta di controversie che non coinvolgono l'amministrazione ma coinvolgono soggetti privati che però non sono semplici utenti del servizio ma sono operatori del mercato e gestore delle infrastrutture che operano che servono per operare nel mercato e questa regulation by litigation è un utilizzo dello strumento di risoluzione del contenzioso importante perché anche la regolazione in qualche modo ha un forte elemento di consensualità nel senso che gli interventi di regolazione in genere cercano di non essere fortemente impositivi ma di proporre delle soluzioni regolati che vengono e degli obiettivi che vengono accolti dai regolati in base ad un sistema di incentivi che questa regolazione contiene e quindi la possibilità di risolvere delle controversie tra i soggetti regolati in qualche modo si riferisce sì alla singola controversia cioè la DR serve a risolvere la controversia che nasce rispetto all'accesso alla rete da parte di un operatore ma nel risolvere la controversia in qualche modo l'autorità fa una raccomandazione anche a tutti gli altri operatori che sanno che avvertono quale sarà l'orientamento dell'autorità qualora nascono nuove controversie simili e quindi è vero che la risoluzione della controversia ha un effetto solo rispetto al singolo operatore ma esercita anche questo moral suasion rispetto agli altri possibili soggetti che sono parte di quello stesso mercato quindi questo tipo di ADR che vedete previsto sia da AGICOM sia dall'autorità delle energie elettriche e del gas riguarda controversie tra operatori tra soggetti privati che comunque sono soggetti operatori nel mercato di un certo rilievo invece l'ultimo meccanismo è quello delle cosiddette che ho chiamato del modello cosiddetto dell'ADR pura cioè di una mediazione di procedimenti di conciliazione e di mediazione in cui le autorità intervengono esclusivamente per risolvere delle controversie tra soggetti privati e delle controversie che sono caratterizzate dal fatto di essere spesso delle controversie seriali di essere spesso delle controversie di scarso valore economico tale per cui i costi del giudizio non gli permetterebbero di emergere e quindi in qualche modo di occuparsi di un contenzioso che potrebbe rimanere latente o che comunque non sarebbe conveniente svolgere di fronte ad un giudice rispetto a questo sistema delle ADR pure le autorità di regolazione di nuovo consentono diverse modalità vedete abbiamo sia il sistema di Agicom attraverso i Corecom che ci sono a livello regionale sia il sistema dell'autorità dell'energia elettrica che permette che attraverso l'utilizzo servendosi dell'acquirente unico fornisce due servizi diversi l'uno perso online attraverso il servizio di conciliazione e l'altro attraverso lo sportello consumatori e anche l'arbitrato bancario e finanziario che anche qua opera attraverso tre collegi Milano Roma e Napoli che risolvono controversie tra soggetti privati e intermediatori finanziari con una rilevanza dal punto di vista dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia perché poi l'ABF fa delle relazioni alla Banca d'Italia e quindi permette una maggior vigilanza sul settore degli intermediari finanziari accanto a queste controversie che quindi riguardano singoli utenti e prestatore del servizio poi in particolare di fronte a Agi come è stata di recente introdotta una nuova procedura per la tutela del diritto d'autore su internet che vedete contenuta in quel regolamento 680 2013 che è una procedura che è oggi al vaglio del Tarlazio in realtà è una procedura che consente una tutela veloce del diritto d'autore perché permette all'autore di rivolgersi all'autorità delle comunicazioni anziché al giudice ordinario e di ottenere per motivati e gravi esigenze attraverso un procedimento che se per motivati e gravi esigenze può avere una durata di 20 giorni diversamente una durata di 40 giorni la rimozione da internet di eventuali dati eventuali filmati in violazione del diritto d'autore però appunto è un procedimento che è stato molto discusso che appunto è stato impugnato dai consumatori di fronte al Tar del Lazio lamentando il difetto di attribuzione dell'autorità delle comunicazioni che ha ritenuto nella delibera di attribuirsi questo potere alla luce di disposizioni non chiare e durante il giudizio di fronte al Tar Lazio vi è stata anche una sospensione del giudizio perché c'è stata una questione di legittimità costituzionale che è stata risolta poi con quella sentenza che vedete della Corte Costituzionale in cui è stata dichiarata inammissibile perché era vago e contraddittorietà il ricorso proposto dal Tar Lazio e quindi la Corte Costituzionale ha rimesso il giudizio che però è ancora pendente presso il Tar del Lazio però nonostante penda il giudizio questo rimedio invece è stato ritenuto molto utile dai titolari del diritto d'autore tant'è vero che nel vienno di vigore di questo regolamento ci sono già più di 300 decisioni adottate dall'autorità quindi dei rimedi che comunque hanno anche un utilizzo massivo infine un'ultima indicazione riguarda l'ANAC perché come qualcuno di voi forse sa nel nuovo codice dei contratti pubblici è contenuto un articolo 211 che è fatto di due commi che contiene due commi e che prevede la possibilità di ANAC di esprimere un parere vincolante nel primo comma per risolvere eventuali questioni in sorte durante lo svolgimento della procedura di gara un parere che se trova il consenso delle parti e quindi nuovo l'elemento della consensualità proprio dell'ADR obbliga le parti a tenersi a quanto in esso stabilito un parere che naturalmente poi può sempre essere impugnato di fronte al giudice amministrativo alla luce di quanto già ci ha ricordato Antonio in precedenza però l'introduzione di questo parere vincolante da parte dell'ANAC è una novità perché in realtà non si tratta più come negli esempi che abbiamo visto in precedenza di una controversia tra due soggetti privati risolta presso un'autorità amministrativa indipendente invece in questo caso la controversia coinvolge un privato da un lato e la pubblica amministrazione nell'esercizio del suo potere all'interno della procedura di evidenza pubblica dall'altro e quindi in questo mi sembra si segnali un'apertura decisa dell'ordinamento rispetto all'utilizzo di questi nuovi rimedi rimedi quindi che secondo me e anche questo è un sintomo vanno letti non solo e non tanto in funzione di risparmio della spesa pubblica ma soprattutto in collegamento con l'istituzione giudiziaria come prima anche il dottor Calderoni ci ha detto ha cercato di fare in qualche modo come una sorta di integrazione di tutela per cui all'interno del giudizio quando si vede che il giudizio non è lo strumento utile forse il nuovo l'idea dovrebbe essere sul modello dell'ordinamento tedesco di concedere al giudice dei poteri per in qualche modo utilizzare dei rimedi nuovi e diversi ultimo punto è quello che riguarda il rapporto tra questi strumenti di risoluzione le controversie e la tutela giurisdizionale questo rapporto è disciplinato in modo molto diverso in tutti i vari provvedimenti delle varie delibere delle autorità amministrative indipendenti cosa succede a volte l'utilizzo dell'ADR è una condizione di accesso alla giustizia anche attraverso tappe successive perché per esempio in tutti quei modelli di ADR pura non si utilizza immediatamente il corecom oppure il servizio clienti dell'autorità dell'energia elettrica ma il rimedio di ADR prevede appunto una tutela che ho chiamato a tappe nel senso che richiede il previo reclamo al fornitore del servizio prima di utilizzare lo strumento di ADR vere e proprie dopodiché per esempio nel caso di AGICOM e del corecom si richiede il tentativo di conciliazione e poi la possibilità di adire il giudice oppure a volte in altri casi come di fronte all'autorità dell'energia elettrica non vi è nessuna necessità di attendere il tentativo di mediazione ma si può scegliere in via alternativa il giudice o l'autorità oppure in un unico caso che è quello del garante della privacy il ricorso di fronte al giudice esclude il rimedio alternativo e viceversa il ricorso di fronte al garante esclude il ricorso successivo al giudice anche se le tutele come già ha ricordato anche Antonio non sempre sono pienamente sovrapponibili per cui per esempio nel caso dell'autorità dell'energia elettrica il servizio clienti può permettere la restituzione delle saume non dovute o eventuali indennizi previsti dalla carta di servizi ma non può pronunciarsi sul risarcimento del danno che invece si può chiedere solo eventualmente al giudice ordinario e nel leggere la disciplina dei procedimenti di fronte alle autorità resta anche il problema della mancanza talora di indicazioni quanto ai rapporti tra pendenza di un ADR di fronte all'autorità e successiva scelta di trasporre il giudizio di fronte all'autorità giurisdizionale come si interrompe l'ADR se i due procedimenti funzionano in parallelo nell'autorità delle comunicazioni si prevede per esempio anche nel caso della tutela del diritto d'autore che la presentazione il deposito del ricorso in giudizio conclude estingue il procedimento di ADR questo però fa sì che talora lo strumento di ADR non sia utilizzato come propriamente dovrebbe essere come strumento consensuale per tentare una risoluzione ma semplicemente come uno strumento dilatorio per cui si inizia il procedimento di fronte all'autorità per darsi più tempo e poi si sceglie di utilizzare il rimedio di fronte al giudice quindi anche rispetto a questi rimedi vediamo che c'è una ricchezza di rimedi di fronte alle autorità amministrative indipendenti ma un'estrema diversificazione e quindi forse invece una semplificazione e anche un tentativo di introdurre dei modelli simili perché per esempio rispetto agli impegni troviamo gli impegni davanti all'autorità garante comunicazione di fronte alla GCM ma non c'è nessuna previsione di impegni rispetto all'autorità dell'energia elettrica che ha poteri simili all'autorità delle comunicazioni e quindi invece forse l'introduzione e la semplificazione di modelli generalizzati potrebbe portare anche ad un coordinamento e quindi anche ad un più facile ricorso di questi rimedi da parte dei cittadini vi ringrazio ringrazio io soprattutto gli ospiti per le belle relazioni voi per la pazienza se avete questioni le porrete un'altra volta perché avete dato abbastanza per oggi ma scherzo a parte se ci sono problemi siamo qui grazie a tutti grazie a tutti